Musica Oh amici in visione all'ascolto sempre per American Imperis e niente po' po' di meno che Laisa, Olisa come la chiamano, che poi sarebbe invece Marta Melchiorre qui. Diamo il benvenuto per l'ennesima volta, è già una nostra abitura. Grazie per essere qui con noi. Qui con noi come vedete non è che si è messo il primo straccetto che è in abiti di scena in realtà perché siamo in una pausa. Siamo in prova, siamo in prova. Doppio grazie allora a questo punto. Grazie a voi. Dunque questo è un ruolo che fu reso con la desiderio da Sain famoso da Leslie Caronne e anche proprio dalla prima che passa nel film del 1951. Come ti ci trovi? Mi piace molto questa Lais, diciamo che mi ci sono molto affezionata perché è una ragazza molto dolce, molto tenera ma allo stesso tempo molto determinata. Diciamo che lei ha questo senso del dovere, siamo nel dopoguerra e lei è stata tra virgolette salvata dalla famiglia Burrell e vive con loro e quindi si sente un po' in dovere nei loro confronti. Soprattutto di Henry fra l'altro. Nei confronti di Henry con il quale poi succederà insomma una sorta di storia ma non posso svelare tutto. Alla fine lei capirà che cos'è il vero amore fondamentalmente. Si capisce in realtà, vabbè poi sai lo spoiling, il film è dal 1951 che gira. Però è un po' diverso, diciamo che è un po' più sviluppato il ruolo in questo musical. Sì 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 ma c'è tutta la famiglia Burrell per esempio che nel film non c'era, qui c'è il padre, c'è la madre. C'è tutta la famiglia Burrell, la mamma Madame Burrell che è molto austera, una figura molto rigida e sì 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 abbiamo tutti i personaggi. Poi diciamo un'altra cosa che nel film Lise era veramente solo una commessa di profumeria in realtà, l'oggetto dell'amore dei due. Invece in questo caso è stato sviluppato il personaggio perché oltre, lavora sempre alle gallerie Lafayette, però vuole fare la ballerina. Vuole fare la ballerina e ha questo sogno e farà un'audizione, la prenderanno e poi faranno questo balletto con lei come protagonista e che è questo che noi chiamiamo il ballettone, che è un balletto di dieci minuti. Me lo diceva Fabrizia stamattina che diceva ci rischiamo questi dieci minuti che poi sarà, la musica sarà in America in Paris si suppone. E c'è quel passadue meraviglioso. Il titolo all'album. Sì, che diciamo che è una soddisfazione ballare quella musica, è meravigliosa. Eh, non dimentichiamo che dietro a tutto questo, cioè prima di Gene Kelly c'è George Gershwin comunque, quindi che viene cantato in numerose occasioni, ballato. E diciamo che abbiamo ritirato fuori le punte, le scarpette da punta. La testa effettivamente, che l'abbiamo adesso, no? Ci sono, sì. Ecco ecco, facciamo, scusate, non dicevamo una sciocchezza. Ci sono, ci sono, e con i loro dolori annessi e connessi. Queste sono cose che non si fa, ma lo immagino. Però sì, c'è la danza classica, c'è il ballato classico in passato. Io da piccola nasco come ballerina, comunque ho studiato danza classica con la Royal Academy, con la Scala, quindi diciamo che volevo fare quello. Poi mi sono avvicinata al mondo del musical, ma la nascita era quella, diciamo. Benissimo, quindi è più Giuseppe che deve avere, avvicinarsi a, noi parlavamo prima che dice stiamo lavorando un sacco. No, è bravissimo Giuseppe, davvero bravo. Facciamo un sacco di prese, poi nella danza, insomma, le prese sono quelle posizioni in aria dove il ballerino ti tiene e non sono facili per niente. Lui è molto bravo. Senti sicura? Sì, meno male, l'importante è quello, perché già con me saresti insicurissimo. Quando vedo queste cose sembra sempre che... te lo garantisco. Però in compenso, e poi c'è anche la parte cantato, come al solito nel musical. Sì, io ho la mia canzone che è The Man I Love, ed è veramente... Anzi, è un pezzo del 1927. È un pezzo dolcissimo, e quindi sì, si fa tutto, si balla sulle punte e si canta persino. E questo è il musical. E beh, ma è questo il musical, è fatto il musical, lo dicevamo prima, anche quando è venuto qui Federico Bellone, con un'orchestra di 70 elementi, fra l'altro. Quindi con un'orchestra sinfonica, con Daniel Smith a dirigere. Praticamente l'orchestra è la stessa che farà Ida ai primi del mese prossimo. No, ma per noi è emozionantissimo, cioè quando li sentiamo suonare è qualcosa di... ci tocca proprio, cioè ti dà quell'energia, quella positività per ballare ancora meglio. Che serve a quello. Senti, noi rispettiamo il fatto che tu sia in pausa e quindi ti mandiamo. Avevo una certa remora a dire in pausa, però hai accettato, non mi fa altro che piacere. In bocca al lupo ovviamente. Grazie. Prima, però guarda, abbiamo questo, vorremmo... ci terremo che tu ci autografassi, se vuoi ti tengo il microfono, se... dove vuoi? Sulla tour Eiffel mi sembra il posto più adatto per l'Islasen, vedi? Faccio anche un cuoricino. Perfetto. Grazie. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.